Grazie, vi devo fermare un secondo perché ci sono i nostri eletti che stanno facendo l'intervento alla Camera, quindi vorrei fare switch, giusto un secondo, vi chiedo la cortesia però di stare qui. La facoltà di parlare è il deputato Maglio Di Stefano. Signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, signori deputati, le teatrali dimissioni dell'ex ministro Terzi, avvenute ieri in quest'Aula dimostrano, se ancora ve ne fosse bisogno, l'ineadeguatezza totale di questo Governo tecnico che lei presiede, signor Presidente. Un Governo fallimentare dal punto di vista sociale, ricordiamo i tagli trasversali alla sanità, alle università e alla scuola pubblica. Fallimentare dal punto di vista economico, centinaia di imprese chiudono ogni giorno in Italia. Fallimentare dal punto di vista politico, avete messo in ginocchio gli italiani, colpendo contemporaneamente lavoratori e pensionati, creando di fatto una nuova categoria, gli esodati. Avete tutelato unicamente gli interessi della casta politica e finanziaria. Un Governo e un Presidente del Consiglio, forte coi deboli e debole coi forti. Che coraggio! Il suo si è dimostrato un Governo fallimentare anche in ampio internazionale, il suo motivo di vanto, signor Presidente. L'altro ieri in quest'Aula ci ha ricordato la credibilità recuperata dall'Italia grazie al suo operato. Eccoli qui i risultati. Lei, signor Presidente, è responsabile della scelta di ministri inadeguati e di non essere stati in grado di garantire compattezza alla sua azione di Governo. E siete corresponsabili anche voi, colleghi del Popolo della Libertà e del Partito Democratico. Voi che ieri avete definito la crisi indiana come l'otto settembre del Governo Monti e che avete attaccato il suo operato duramente, dimenticando che siete stati voi a sostenerlo, confermandone costantemente la fiducia. Ma adesso andiamo avanti. Quello che ci interessa è una risoluzione positiva e nel miglior tempo possibile per questa crisi internazionale. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle si mette a completa disposizione per supportare qualsiasi attività si rendesse necessaria a tale scopo. Noi ribadiamo che la trasparenza sia il fondamento per la risoluzione di ogni conflitto e la base per tutelare sempre gli attori coinvolti. Per questo a lei, signor Presidente del Consiglio e da oggi Ministro degli Esteri ad Interi, chiediamo che entro una settimana siano pubblicati i seguenti documenti sul sito del Ministero degli Affari Esteri. Decreto Legge 107 del 12 luglio 2011 riguardante le misure antipirateria. Un documento che renda chiare e comprensibili le regole di ingaggio dei nostri militari a bordo di navi private. Le prove che attestino che l'incidente che vede coinvolti i fuciliari della Marina sia avvenuto in acqua internazionali. Il documento del Ministero degli Esteri indiano, documento che il Sottosegretario di Mistura sostiene di aver visionato e che dà garanzie sulla non applicabilità della pena di morte per i nostri militari. Tutta la documentazione relativa all'accaduto per conoscere dettagliatamente nello specifico chi c'era sulla nave e cosa ha fatto per tutelare i nostri fucilieri, qual è stata l'autorità che ha consentito l'inversione di Rotterra e l'Alexi, il nome, il cognome e il grado dell'autorità militare che ha ordinato i nostri due fucilieri di scendere a terra. Senatore Monti, le sue valutazioni non possono essere sufficienti. Vogliamo nello specifico sapere se ci sono implicazioni tra la vicenda in questione e lo sblocco dell'accordo commerciale da 300 milioni di euro tra l'India e la VAS di Livorno, controllata fin meccanica per la fornitura di siluri ad alta tecnologia. Concludiamo invitando il suo Governo, Senatore Monti, al massimo impegno affinché questa vicenda si concluda positivamente e rapidamente e venga tutelata la vita dei nostri fucilieri, la dignità delle loro famiglie, la memoria di due pescatori indiani e l'onore del popolo italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.